Dove la collina si apre all'abbraccio della ferchile pianura Friulama, dove il torrente dirama le sue acque limpide e vivaci, lì si trova il territorio di Coseano. Il tempo da queste parti ha conservato un sapore diverso. La pace che trasmettono le verdi distese coltivate dall'uomo, gli antichi borghi che evocano un'atmosfera di serenità rurale, fanno subito capire la piacevolezza di una vita scandita dal ritmo delle stagioni. Questa tranquillità ha consentito ai suoi abitanti un notevole sviluppo socio-economico che ha portato alla nascita di un centro industriale perfettamente inserito nell'ambiente circostante. Dalle aziende alimentari presenti in quest'area escono ogni giorno migliaia di nuovi prodotti che grazie all'adozione delle più sofisticate tecnologie raggiungono un eccellente livello qualitativo e vengono distribuiti in tutta Europa. Nuovi prodotti per nuovi mercati. A Coseano l'innovazione è una realtà quotidiana, anche per il formaggio. Qui infatti si trova una delle aziende che producono, oltre a diversi tipi di prelibati latticini, il famoso Montasio DOP, utilizzando le più moderne tecnologie, ma senza dimenticare, i principi di un'arte appresa in quasi 70 anni di attività. Tradizione e innovazione Ecco i due ingredienti fondamentali che rendono speciale un territorio come questo, che non abbandona le cose buone del passato, ma spalanca le porte al futuro.